Sindaco, lei si è preso un impegno due giorni fa di essere amplificatore di quelle che sono le istanze di lavoratori della DAICO, 135 licenziamenti che sono stati promessi dalla proprietà di DAICO. Ci sono delle ulteriori novità rispetto all'incontro che lei ha avuto ieri? Intanto direi che sono stati minacciati più che promessi questi licenziamenti. Ci sono novità nel senso che abbiamo fatto un'azione di diplomazia nei confronti sia di Confindustria perché si facesse in qualche modo portatrice delle istanze del territorio, delle istituzioni nei confronti della proprietà di DAICO e abbiamo ovviamente lavorato anche con il prefetto che ringrazio per la disponibilità che ha dato perché ci possa essere un tavolo quindi neutrale rispetto alle istanze da rivendicare, quella dell'azienda che non è assolutamente condivisibile in ragione di quello che hanno sottoscritto l'11 di maggio quando hanno affermato esservi una crescita addirittura delle nostre unità produttive e non certo un problema di tenuta di quelle fabbriche. E poi c'è una istanza, quella dei lavoratori, che giustamente chiedono di avere garanzie sul proprio futuro. Non è possibile pensare che una vertenza si apra senza alcun campanello d'allarme, senza che vi siano state avvisaglie, senza che vi siano problemi nella produzione. Allora, siccome siamo preoccupati anche per questa condotta avuta dall'azienda, credo che sia necessario che tutti, tutte le istituzioni, la Regione che ci ha convocati e parteciperemo con il Presidente Lolli all'incontro fissato per lunedì, ma c'è un altro incontro fissato da Confindustria. Insomma, mi preoccupa questa non univocità nella trattazione dell'argomento. Sono molto preoccupato perché perdere ulteriori 600 posti di lavoro in questa nostra area vuol dire per davvero mettere in crisi il sistema sociale della nostra città e dell'intera Val Pescara. La fascia resta al prefetto? Assolutamente sì. Fin quando io non avrò la chiarezza su questa vicenda, io non dico la soluzione. La chiarezza è fondamentale. Oggi ci sia chiarezza che non ci si nasconda dietro un dito e che non si prenda in giro la gente. Allora, fin quando questo non ci sarà, la fascia sta benché depositata lì. Non ne ho bisogno per esercitare il mio ruolo. Voglio che il mio ruolo sia di aiuto a chi oggi teme di perdere il posto di lavoro.